Vuoi ampliare i movimenti del mercato nel breve termine? I Turbo di Benpeppa e Ribas sono prodotti a leva quotati su Borsa Italiana che consentono di prendere posizione al rialzo e al ribasso su indici, azioni, materie prime e valute. I Turbo sono strumenti speculativi adatti al trading di breve termine e investitori esperti. I Turbo permettono di prendere posizione su un'ampia gamma di sottostanti. La leva in questi prodotti è dinamica, questo perché l'investimento ad esempio nei Turbo Long è assimilabile a un investimento diretto nel sottostante, ovve parte dei fondi è finanziata dall'emittente. L'ammontare finanziato dall'emittente è pari allo strike. Più vicino il valore del sottostante allo strike, maggiore l'investimento finanziato in proporzione dall'emittente e di conseguenza maggiore la leva. Al contrario, più lontano il valore del sottostante rispetto allo strike, minore l'investimento finanziato dall'emittente e di conseguenza minore l'effetto leva. Movimenti del sottostante comportano quindi la variazione della leva nel tempo. Per comprendere meglio il funzionamento della leva variabile si può ricorrere a un semplice esempio. Supponiamo che si voglia investire sul rialzo del fuzzimib nel momento in cui quota 20.000 punti e si acquista un Turbo Long con strike 18.000. Per calcolare la leva è sufficiente dividere la quotazione del sottostante per l'ammontare effettivamente investito, pari cioè alla distanza tra il valore del sottostante e lo strike. Otteniamo in questo caso una leva pari a 10. Si ipotizzi che il fuzzimib salga del 2% a 20.400 punti. L'investitore si troverà in questo caso ad aver investito in un titolo il cui valore sarà salito circa del 20%. La performance del sottostante risulta moltiplicata per 10. Inoltre, una volta che il fuzzimib raggiunge questo nuovo valore, la leva del Turbo diminuisce a seguito della cresciuta distanza dallo strike e diviene pari a 8,5, cioè pari al rapporto tra il nuovo valore del sottostante e la differenza tra questo e lo strike. Cosa succede se il sottostante si muove in direzione opposta a quanto sperato? Se il fuzzimib perde terreno, la sua performance negativa viene moltiplicata e si trasforma in una perdita amplificata per l'investitore. Se la quotazione del sottostante scende fino al livello di strike, il prodotto si annulla e perde il suo valore. L'investitore quindi conosce in anticipo la perdita massima del suo investimento. Il Turbo Short funziona in maniera opposta, moltiplica i ribassi del sottostante trasformandoli in guadagni e viceversa. Lo strike è in questo caso più elevato rispetto alla quotazione del sottostante. La gamma dei Turbo di Benpe Paribas è in continua evoluzione. Scopri tutto visitando il sito investimenti.bempeparibas.it, l'app a quotazioni di borsa o chiama l'892 40 43. Grazie! 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 Grazie!